Nella serata di ieri una casalinga nissena è stata denunciata per furto di energia elettrica. L'episodio si è verificato a Santa Barbara dove i poliziotti della sezione volanti sono intervenuti per sedare una lite condominiale causata da musica ad alto volume che proprio la donna in questione diffonderebbe a qualsiasi ora del giorno. La donna, che ha anche rivendicato il diritto di tenere in casa propria il livello dello stereo ad alto volume, ha invitato gli agenti in casa propria. Dentro l'appartamento, però, gli agenti hanno notato subito un cavo elettrico volante che usciva da un buco nel muro e si collegava ad un traliccio posto sulla pubblica via che presentava la canaletta di velta e un allaccio rudimentale. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Enel per staccare il collegamento e ripristinare la normalità. La donna, che in un primo momento ha negato l'allaccio abusivo, deve ora rispondere di furto aggravato. Grazie a tutti.